Il campetto da calcio del comune di Nagotorbole vicino alla chiesa di Sant'Andrea, il sintetico più vecchio dell'Alto Garda, va rimesso a nuovo. L'appello all'amministrazione comunale è partito da Alessandro Tonelli, allenatore della C Nagotorbole e presidente dell'associazione Zobia United, che gestisce per il comune il campo di proprietà della parrocchia. Sarebbe il momento del rifacimento, dice Tonelli. Oggi quello che era un prato soffice alto 3 cm è diventato ora una piatta moquette. Questo crea problemi negli allenamenti, soprattutto per i talloni dei bambini, a cui consigliamo scarpe con suola morbida. Il deterioramento della superficie è evidente. Al centro del perimetro si era perfino creata una buca, riparata con mezzi di fortuna da Tonelli e soci. Anche le porte sono state rifatte. Due settimane fa la rete che recinta il campo ha ceduto. Da qualche giorno i 30 mini atleti delle squadre di Pulcini hanno ripreso a giocare sul campo di Torbole. La società sportiva ha registrato un aumento dei piccoli iscritti, anche dalla Val di Grista. Per questo si vorrebbe puntare anche sul campo vista lago. Avremo bisogno anche di un luogo da usare come deposito per palloni e strumenti per lo sviluppo motorio, conclude Tonelli.